Vai andiamo a sta torre idrica Si è off Vedo 70 metri Vai Ciao zombie di L E sali Oh non mi fa salire Dai dai Ah vai ci l'hanno fatta Oh Ah Oh Sì 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 Alla Zì Mm Ă C'è For Joe, Aiden. The guy's a clown, but he's dead. He's taller than I thought. I doubt he'd just run up like that. Damn. Aiden. Fuck, fuck. The guy's a clown doesn't slap him. He just won't. Damn. I'm good. I'm good. I'm good. He doesn't want to play. He's a guy. He's a bad guy. I don't want to play again. He's a bad guy. He's not a guy. Ancora Vai, tutti morti Ne apriamo sta porta No Ah Easy Eh, una Tutte le cariche Ok Allora Allora non c'è nessuno, non c'è nessuno se mi fa ancora salire ma come cacchio salgo da dentro? arrampica dove cacchio stanno sti cosi? ah qua Kuri Oh Is that no we will be we will not leave you alive the adult no one will give me the detonator jack oh no we were supposed to take tribute just collect money jack in it back they will get what they deserve they will die got it Oh Ok, bravo È in realtà Ha, è come questo Segui a dare un uomo Ah, talmente facile Eh, vai, vai E immagino che dobbiamo ucciderli, questi tuoi compari alle belli Ah, perché ti sei fatto sentire Volevamo di trattar, dai Volevamo di trattare Oh Oh It's me, it's me Dovete fare Dovete fidare di me Eh, vi dovete Eh, lui l'assassino Sono sicuro Oh Vuole morire questa, vai Oh 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 Niente di più Qua che ci sta Ok Qua Ok Sono le armi Vai Eh So what now Aiden Smart guy Who gets control of the water Quando assegni piatta precipitatore di pezzi Ah Ok vabbò Oh Che facciamo Mai Grande È bloccato il livello di ingrandimento della mia città Ok E Due per aprile di ingrandimento dell'allineamento Azz Maia Altre mappe E E E E E Ok Qui puoi trovare varie ricompensità che riceverà assegnando le zone fazioni per assegnare una zona scopi di impianti Tiva edizione Ok Va bene Ok Vai che facciamo adesso Vai Vai Andiamo E E Qui Cavo 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 In questa direzione Vai Ok Ah Vai Oh Ok No 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 nooo not bad vai ritorniamo a l'hotel lino oh ok quindi qua per risalire dobbiamo fare il giro vedi qua porta vai si sale ancora eh no non si sale ancora si va qui e si fa girarlo che cacchio fai compa? mazza mi hanno chiuso la porta ok eccolo oh è di nuovo piena? ok ok uh ok ok è un tipo di collettor o cosa? è un tipo di collettor sto che che è un punto di collettor non ci sono Ah, ok Ah ma questo è il pezzo di carne È il pezzo di carne di Lucas Te l'avevo detto Ha detto Devono morire questi due mani Ah ma questo è il pezzo di carne Ah ma questo è il pezzo di carne You're done for Aiden Hack on dead save Ciao Vi ho dato pure la torre idrica Vi ho dato Ho trovato il proof Dicono tra le cose Dicono? Dicono? Di cosa? Andiamo a vedere Non importa Non importa Non importa Questo è tra te e Aiden Adi Sì 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 Adi non importa la vera Non importa il vero Non importa il vero Dicono? 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 Ok Aspetta la chiamata di Sophie Posso dormire? Non posso dormire 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Eccoci al bazaar. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, ciao, Carl. Caduto il joystick. Grazie a tutti. Barney,